la donna ragazzi, la donna non ci va, non ci entra ma questa è l'impala di Recomi? madonna me lo son dimenticato dentro, da quanto tempo hai che si fa? madonna ragazzi, goli in palone, siamo a bomba, siamo a bomba, qui dove devo andare? eh devi seguire la sinistra, prendi la rotondina vai 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 porco dio porco dio oh io non bestemmio mai, ma questo mi ha fatto bestemmiare io sono volato di là guarda le fighe figa, si sono già tutti i culi maremma cinghiana si questi qua si deve pensare al terreno si si andate a piegare figa eh figa oddio, una strada per il castello è uguale canzone eh minchia madre perca dio oh porco dio porca madonna oh oh dio oh 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 dio oh 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 ora ahah ahah ma cosa si posso? il telefono l'ho perso non lo so credo eh jah ah ah madonna niente vai a sinistra Sinistra? Si, vai 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 La madonna, dritto dritto Si vola E se avevi il charger da 500 cavalli RT cos'era? Ti lasciavo le gomme giù sull'asfalto Minimo Ho tirato pure io il flash Io sto andando casissimo Vai tranquillo Segui sempre centro e andiamo bene Centro di qua Accensione V8 in pala Madonna Madre Ragazzi che stamadì Mamma mia Sto male Sto male Madre di Dio Sto male Cos'è sta macchina? Sto male Allora Caro Nick ci parli un po' di modifiche di questa macchina Bel carburatore grosso come il buco del culo Quello è il minimo Basta Semplicemente carburatore E accensione elettronica Presto a poco la macchina è stock Ma secondo te la porchetta hanno capito che era un impala Hanno capito che era una roba enorme Senza senso Che sgommava senza senso Madonna ragazzi Vai Mamma mia Mamma mia Oh Baccadio 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 Sinistra Sinistra